Buongiorno dalla Croazia, oggi mi trovo a Stone, o Stagno in italiano, che è un paese a 50 km da Dubrovnici, dove si trova la muraglia più grande del mondo dopo quella cinese. Una muraglia lunga circa 5 km, oggi è sabato, ci sono 30 gradi ed è mezzogiorno e ovviamente lo che mi aspetta è una bella scarpinata su U, come potete vedere da mie spalle, per la montagna sopra la muraglia, sarà una bella avventura anche oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora mi trovo all'interno della frontezza di Stone, è un po' vuota, però è ben conservata o ricostruita, questo non ve lo so dire, però si presenta bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed eccoci alla fine di questo video, vi gioco ancora nella frontezza di Stone e da qui vi do appuntamento al prossimo video. Come sempre vi invito a lasciarmi un bel commento, a cliccare mi piace e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.